Grazie 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 35 Sì Inizia Aspetta Perché voglio che faccio la doccia Poi ci vuole tempo Per il 9 stiamo là Puoi anche che per me è una scatola Per il 9 dobbiamo stare là Non ci vuole La scatola Non è scatola Non è solito Non è solito Ma è solito Non ci vuole Vai garore Vai garore Pio, 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 pio. Pio, 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 pio. Pio, 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 pio. Pio, 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 pio. Pio, pio, pio.